L'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di recente, o meglio pochi giorni fa di tempo, di andarsi a tagliare lo stipendio in qualità proprio di questa sua carica politica, o meglio questa sua carica chiamiamola istituzionale. In particolare Mattarella si sarebbe decurtato circa 60.000 euro già per la seconda volta. Già tempo fa lo stesso Mattarella ebbe modo di decurtarsi lo stipendio e ha rinunciato in pratica all'adeguamentoista dell'assegno personale, rinunciando anche al vitalizio da parlamentare, tagliandosi anche, però ripeto, lo stipendio. Una scelta importante, una scelta ben ponderata, una scelta che secondo me dovrebbe essere confiuta da parte della maggior parte delle persone politiche che lavorano nel nostro paese d'Italia, che a mio modesto parere, a mio modesto avviso, guadagnano veramente troppi, troppi soldi. E questa è la mia semplice ed umile opinione. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, questo video non vuoi elettere il paese di Mattarella, l'odio a Mattarella, bravissimo, uno straordinario che ha deciso di compiere un gesto giusto, doveroso, corretto, che va a deporre totalmente al suo favore. Bene, complimenti a lui.